buongiorno a tutti ecco una piccola perla di oggi nel nostro caro giovanni buon ascolto a tutti e ora presentiamo l'inno alla vita di Gio buongiorno a tutti così mi è venuto spontaneo di scrivere di scrivere questi pochi ricchi di ripressioni di ripressioni di vita e cioè se tutti osservassero le regole il mondo sarebbe veramente risolato e vita ma purtroppo niente di tutto ciò è verificato non si legge negli occhi di tutti nonostante esistono realtà che ci insegnano o meglio ci avvertono che qualcosa al mondo non va tuttavia noi tutti dovremo imparare ad ascoltare come gli alunni a scuola per strada purtroppo si evidenzia una filosofia stranissima di vita la chiusa in un menebrechismo totale e cioè il non rispetto gli uni con gli altri se tutta questa diffidenza finirà allora potremmo dire che il mondo è libero viva la vita e buongiorno a tutti buona vita a tutti e buona poesia e buona poesia bene spero vi sia piaciuto mi raccomando vedetelo in molti questo video e alla prossima ciao